Non solo prima squadra ma anche settore giovanile in casa West Avellino è corsa contro il tempo per definire anche le altre formazioni. Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati i tecnici. L'Under 15 sarà guidata da Gigi Molino, indimenticato bomber De Lupi che con Vullo nella stagione 2002-2003 a Sondireti conquistò la Serie B. L'Under 17 invece da Giovanni Montanile, tecnico che torna in bianco-verde dopo quasi 20 anni, ultimo allenatore ad aver vinto qualcosa alla guida delle giovani lirpine nel 95-96, conquistò lo scudetto Beretti contro l'Inter vincendo 2-1 con redditi Ferrentino e Criniti, una squadra che annoverava tra le proprie fila Frau, Leonardo, Camorani e Farias. Resta alla guida della Beretti Dario Rocco, già vincitore del ginone 2018-2019 di categoria con l'Under 19. Il 6 settembre presso lo stadio Partenio Lombardi ci sarà l'open day delle giovanili sotto la supervisione del direttore sportivo della prima squadra Salvatore Di Somma.